Di stabilità non avete dedicato al riassetto idrogeologico neanche una slide. Cosa deve accadere più per considerare frane e alluvioni un'emergenza nazionale? Troppe volte la mia regione ha dovuto fare i conti con l'assenza completa di politiche di difesa del territorio. Il governatore De Luca ha fatto addirittura un pezzo della propria campagna elettorale sul condono e il neo-alleato Verdini ha inserito la sanatoria sugli abusi edilizi in Campania tra i pizzini da inviare a Renzi per dare il proprio voto sulla stabilità. Signor Ministro, i campani devono continuare a preoccuparsi? Grazie. Passiamo ora all'interrogazione numero 3, 1780, dei deputati Sberna e Gigli concernente elementi ed iniziative in merito ai rischi connessi al fenomeno dei siti internet che vendono farmaci per l'interruzione della gravidanza. Il deputato Sberna ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto, onorevole. Grazie, signora Presidente. Gentile Ministra, lei ormai mi conosce e sa che non mi rassegnerò mai a vivere in un Paese che consente di sopprimere i propri figli fin dal seno delle madri. L'interruzione volontaria di gravidanza, lei ce ne ha parlato in una meritoria relazione che ci ha fatto sulla diminuzione del numero di aborti che passano dai consultori familiari, tuttavia siamo di fronte ad un fenomeno nuovo. Prolificano cioè i siti che vendono i farmaci per l'aborto, che spiegano cioè come fare un aborto con pillole di uso comune che hanno lo stesso effetto dell'RU486, forti contrazioni dell'utero, distaccamento del feto dal placente e quindi la sua eliminazione. Sembra di essere tornati alle pompe per le biciclette di nefasta memoria. Questi siti presentano queste offerte in maniera accattivante garantendo poche domande, anonimato, prezzi scontati, tutela dalla privacy e tacendo evidentemente sugli immani rischi che le pratiche suggerite comportano per la salute delle donne che lo praticano. Tra l'altro risultano i dati Istat, rivelano un aumento degli aborti spontanei negli ultimi anni con un punto del 67% tra le giovanissime tra i 15-19 anni, cosa che ci fa pensare. Sì, concludo subito. La domanda è se il Ministro non ritenga doveroso indagare su questo fenomeno.